Oroscopo di domani, 23 maggio 2023, per tutti i segni zodiacali. Cosa ci aspetta domani? L'oroscopo di domani è basato sui movimenti planetari e sulla loro influenza che determinano le azioni e gli eventi umani. Di seguito le previsioni dell'oroscopo domani per ogni segno zodiacale. L'oroscopo del segno ariete. Grazie al sostegno positivo della lunga in cancro, domani vivrete una giornata rilassante. Trascorrere del tempo insieme e momenti romantici con il partner vi avvicinerà e vi permetterà di superare la distanza accumulata. I single vivranno una giornata affascinante, poiché l'influenza di Nettuno acquirà l'intuizione, l'immaginazione e i sensi, permettendovi di comprendere e percepire meglio la realtà. Sul lavoro, la luna offre l'opportunità di affrontare pratiche del passato che non sono state gestite in modo ottimale. Sfruttate questa opportunità per lanciare un progetto innovativo che metta in luce il vostro talento. L'oroscopo del segno toro. Non lasciate che l'influenza negativa della luna offuschi la vostra giornata. Utilizzate l'energia a vostra disposizione per rendere speciale il tempo trascorso con il vostro partner. Evitate discussioni inutili che potrebbero rovinare la serata. I single possono contare su un forte sostegno per le questioni familiari. Siate determinati. Alla fine le cose cambieranno e porteranno sollievo. Siate pazienti e sarete ricompensati. Giove consiglia di passare più tempo con i colleghi che possono darvi consigli preziosi sul lavoro. Lavorare insieme e condividere le idee vi aiuterà a superare le difficoltà e a ottenere buoni risultati. L'oroscopo del segno gemelli. L'oroscopo del 23 maggio prevede che l'armonia si diffonda positivamente intorno a voi. I rapporti familiari, soprattutto con il partner, vivranno una fase di armonia, arricchendosi di nuovi interessi, domani. Anche il rapporto con i figli si rafforzerà e potranno nascere momenti speciali che diventeranno ricordi preziosi in futuro. I single dovrebbero essere ottimisti e sperare di trovare l'amore in questo giorno. Seguite le vostre passioni e agite senza rimpianti per essere guidati verso qualcosa di eccitante. Sul lavoro potrebbero esserci delle sfide che vi metteranno alla prova. Questo è il momento ideale per affermarsi. L'oroscopo del segno cancro. La luna nel segno promette una grande influenza, domani. Le persone sposate potrebbero avere nuovi progetti in arrivo e pensare di allargare la famiglia. Le coppie nate da poco desidereranno più libertà e, allo stesso tempo, più fiducia reciproca. È probabile che l'influsso di venere rafforzi il vostro rapporto di coppia. Se invece siete single, le stelle vi faranno vivere in una dimensione vivace e in continua evoluzione. Dopo qualche gioco e divertimento, il vostro desiderio di libertà potrebbe essere minacciato da un incontro fulmineo. Qualcuno che vi incanta con il suo sorriso potrebbe essere il vostro futuro compagno. Sul fronte del lavoro, si preannuncia un'ottima giornata. L'oroscopo del segno leone. Si prevede un periodo anonimo, zero emozioni e poche notizie degne di nota. In amore, cercate di essere più comprensivi nei confronti del partner. La condivisione delle emozioni rafforzerà i legami e vi aiuterà a superare le incomprensioni del passato che continuano a minacciare il presente. Grazie all'influsso benefico di venere, domani potrete godere di una relazione abbastanza sicura. Se siete single, aumenterà la vostra capacità di guardare avanti e di pensare al futuro. Questo vi incoraggerà a fare passi importanti nelle relazioni a lungo termine e potreste cercare di legittimare impegni informali. Per quanto riguarda il lavoro, diventerete più assertivi. Se un collega vi deve un favore, è il momento di esigere la differenza. L'oroscopo del segno vergine. L'oroscopo di domani, 23 maggio, prevede che martedì possa essere ricco di esperienze romantiche. Gli scoppi di emozioni varie assumeranno una forma genuina, nonostante il fatto che di solito siate una persona razionale e ben pianificata. Di notte, le stelle potrebbero farvi cambiare atteggiamento e regalarvi una lunga coccola notturna. Se siete single, l'influsso moderato vi darà la fiducia necessaria per avanzare nel regno dei sensi. Potreste riuscire a superare la vostra intrinseca goffagine e a controllare certe emozioni. Siete meno soddisfatti del vostro lavoro, ma siete presenti. Sono in arrivo grandi cambiamenti e siete pronti ad adattarvi alle nuove sfide. L'oroscopo del segno bilangia. In questa fase di routine potreste sentirvi un po' bloccati o privi di ispirazione. Ma mantenete la calma e concentratevi sulle vostre faccende quotidiane. Ricordate di fare brevi pause per ricaricare le energie e ritrovare l'equilibrio. Dal punto di vista emotivo, potrebbero esserci discussioni e incomprensioni con il partner, ma cercate di comunicare apertamente e onestamente per superare gli ostacoli. L'oroscopo del segno scorpione. Martedì è il momento in cui la vostra fortuna va a rotoli. Per molti nati sotto questo segno, sarà una giornata priva di grandi cambiamenti o eventi significativi, e una giornata al di sotto delle aspettative. È importante mantenere una visione realistica e prepararsi a qualsiasi situazione. Dal punto di vista sentimentale, potrebbe essere un momento di riflessione per le coppie su quanto sia forte il loro rapporto? Nel frattempo, sul lavoro, concentratevi sulle vostre responsabilità e cercate sempre di adottare un approccio pragmatico. L'oroscopo del segno sagittario. L'oroscopo del 23 maggio sottolinea che potreste vivere un martedì meraviglioso, pieno di energia e di entusiasmo. Sfruttate questa positività per raggiungere i vostri obiettivi e approfittare delle opportunità che si presenteranno in questo periodo. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, potreste scoprire che voi e il vostro partner avete raggiunto un'intesa migliore e trascorrerete insieme un periodo molto romantico. Nel frattempo, sul fronte del lavoro, domani la vostra naturale creatività e assertività vi aiuterà a raggiungere risultati soddisfacenti. L'oroscopo del segno capricorno. Il periodo ha punteggi altissimi. La giornata di domani sarà impegnativa, senza grandi fortune o cambiamenti. Cercate di affrontare le difficoltà con determinazione e perseveranza. Dal punto di vista emotivo, potrebbe esserci un ristagno o una relativa distanza emotiva tra voi e il vostro partner. Sul lavoro, rimanete concentrati e portate a termine i vostri compiti con dedizione. L'oroscopo del segno acquario. La vitalità e la fortuna sono in aumento. State chiaramente vivendo un periodo di fortuna in tutti i settori della vostra vita. Sfruttate questo periodo positivo per portare avanti i progetti che vi interessano particolarmente e per raggiungere i vostri veri obiettivi. Sul fronte sentimentale, domani potrebbe nascere un'intesa e una collaborazione tra voi e il vostro partner e sarà il momento di dare vita a ciò che state progettando da tempo. Sul fronte lavorativo, ci saranno opportunità di crescita e di successo, quindi siate pronti a coglierle. Mettete in mostra le vostre capacità. L'oroscopo del segno pesci. L'oroscopo di oggi per martedì 23 maggio annuncia un periodo brillante per voi. Si tratta di un periodo generoso, ricco di emozioni positive e di diverse possibilità di realizzare ciò che più desiderate. Potrete mettere in mostra le vostre capacità e i vostri talenti, sia sentimentali che professionali. Approfittate di questo periodo forte per realizzare i vostri desideri, costruire relazioni importanti e trascorrere questo periodo dell'anno con gioia e serenità. È importante mantenere la calma e usare questo periodo per se stessi.